buongiorno oggi apriamo con una lettura da parte dell'autore ecco buongiorno a tutti no io più che una lettura volevo rifarmi a uno degli innumerevoli episodi grazie ai quali milena gabanelli che come sapete è la fondamentale watchdog del giornalismo italiano ed è anche colei che come dire ha una fonderia di proiettili d'argento ognuno dei quali serve a risolvere i problemi di questo povero paese lunedì scorso ha praticamente pubblicato questa nuova come dire nuovo episodio avvincente del manuale della perfetta fonderia dei proiettili d'argento dove identifica un problema e fornisce la soluzione il problema identificato è l'altissima propensione degli italiani alla liquidità in altri termini le famiglie e le imprese italiane tengono un casino di soldi sul conto corrente e non li investono notare che questo è un punto che aveva stressato anche ai tempi che furono un'era geologica dietro anche Matteo Renzi quando diceva gli italiani non consumano gli italiani hanno una elevata propensione al risparmio adesso facciamo un passo in là perché la propensione al risparmio è un concetto la propensione alla liquidità è il passo immediatamente successivo per cui che cosa ha scoperto la Gabanelli che gli italiani hanno troppi soldi liquidi sul conto e non investono e quindi praticamente tra le altre cose questo articolo parlando tra l'altro delle aziende dice alla fine dell'anno scorso fra titoli immediatamente convertibili e contante le aziende italiane tenevano immobilizzati circa 340 miliardi di euro il 20% del PIL raggiungendo il livello più elevato degli ultimi 20 anni ora se scrolli verso il basso dovrebbe entrare in campo anche questo adesso io vorrei richiamare l'attenzione di chi ci ascolta e di chi ci vede su questo concetto che è abbastanza interessante la liquidità del conto corrente per Milena Gabanelli è una immobilizzazione quindi dopo il ghiaccio bollente abbiamo anche la liquidità immobilizzata e quindi c'è questa sorta di problema enorme che gli italiani hanno troppi soldi liquidi sul conto ma attenzione cattiva la mia risata non ce la faccio troppo bella no ma non si è sentita ma attenzione adesso ve lo faccio vedere tra un po' non è registrato no no ma io guarda preferisco fare voice over diciamo quindi qual è il problema? che ci sono troppi soldi liquidi sul conto e quindi non vengono investiti attenzione perché secondo la Gabanelli tenere i soldi liquidi sul conto cioè presso le banche fa sì che questi soldi comunque non vengano investiti cioè le banche che hanno dei depositi a vista secondo la Gabanelli non li prestano hai capito? ma poi secondo te si pone il problema la signora se quei soldi sono sempre fermi sugli stessi conti o se guardando tutto quello che lei sta osservando che a volte io pago te poi tu paghi il fornitore poi uno che paga il suo poi paga l'operaio poi l'operaio paga l'affitto secondo te se lo pone il problema? no no ma appunto il problema delle operazioni che potremmo definire di tesoreria cioè quelle per regolare le transazioni evidentemente lei è alieno però visto che tu sei veramente perfido a richiamare questo punto che è molto da professori diciamo proviamo a escludere questo punto da professori ma io pensavo che la Masaia lo sapeva che delle volte nel suo conto i soldi vanno giù e invece vanno su in quelli del panettiere quelli del panettiere no certo certo ma il problema il problema è che i nostri compatrioti non investono in attività di lungo termine e quindi che cosa scrive la Gabanelli un maggior raccordo tra la capacità di risparmio dei privati e l'economia reale quella delle imprese delle opere pubbliche servirebbe a rompere il clima di incertezza naturalmente la Gabanelli non si chiede da dove origini questo clima di incertezza anzi in un paragrafo precedente dice che tra la primavera e l'autunno dello scorso anno era tornata in primo piano la paura per una possibile uscita dall'euro che oggi è indicata solo dall'11% dei correntisti in un recente sondaggio di Azimut GFK poi serpeggia il timore di una patrimoniale la conseguenza è stata quella di mettere in moto l'interesse per l'apertura dei conti all'estero che consentirebbero di mantenere in euro una piccola grande quota della liquidità se tornasse la lira cosa c'entra questo col fatto che la liquidità permane copiosa sui conti correnti domestici lo sa solo la Gabanelli anche perché se arriva il changeover durante un weekend di pioggia e si ritorna alla lira vi faccio vedere Mario mi sembra più è troppo se si ritorna alla lira se si ritorna alla lira i soldi sul conto corrente tornano in lire se avete paura di una patrimoniale ricordate quello che fece Giuliano Amato nel 92 un prelievo straordinario sui saldi di conto corrente perché lasciate i soldi sul conto corrente? va bene insomma cerchiamo di serrare le fila perché sembriamo due pazzi soprattutto io che sto parlando tu che ascolti ma io ascolto mi sembra mi hai sorpreso con questa cosa prima ci eravamo sentiti un attimo che mi ha detto ma tu hai visto cosa scrive di nuovo la Gabanelli secondo me con la Gabanelli ci ho rinunciato cosa vuoi da quella volta ci abbiamo rinunciato tutti ci abbiamo rinunciato tutti e quindi non guardo devo dire ci sta il punto questa è diffusione non lo so purtroppo la libertà di stampa per carità è un valore troppo sacro però devo dire che vedere diffondere dai maggiori organi nazionali queste continue bagianate queste falsità queste invenzioni questi falsi allarmi questa economia dei broccoli è una cosa disperante oggi c'ho anch'io la mia ma dopo te la ti il meglio deve arrivare allora abbiamo visto qual è il punto? c'è troppa liquidità sui conti correnti qual è l'altro punto? c'è troppa incertezza in questo paese nulla si dice nulla si dice nulla si dice su quali possano essere le origini e le determinanti problema bisogna dare alle aziende italiane soldi da investire adesso tu dimmi se c'è un legame tra queste due cose sono proprio i soldi da investire che non ne hanno voglia a testolina ma glielo ha spiegato qualcosa no ma secondo lei l'elevata liquidità ma l'elevata liquidità dei conti deriva dall'incertezza era un buon umore era un po' con le balle girate ho capito no sì invece io peggioro a leggere queste cose di nuovo anche perché le ho commentate io una settimana fa ma a questo punto qual è il problema rilancia cioè ci sono i PIR ci sono i PIR tu sai conosci i PIR cosa sono i piani individuali di risparmio ah i piani individuali di risparmio sì 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 vagamente dove tu hai questa esenzione quinquennale eccetera eccetera però adesso è tutto fermo perché i geni del governo hanno inserito anche il venture capital e un'altra operatività pesantemente illiquida che necessita di un lascia passare europeo in pratica bisogna trasformare gli italiani in piccoli venture capitalist cioè farli passare dalla liquidità del conto corrente all'immobilizzo più bieco e becero di queste forme di venture capital che sono ad immobilizzo pluriennale però c'è incertezza allora cosa bisogna fare? sì ragazzi io dopo devo dirne una ne avevo anche io una mia sui conopoli in cui per la prima volta mi hanno invitato ho pubblicato una piccola riflessione poi sono andata a leggerlo e mi è venuta fuori per compensare ovviamente farmi girare qualcosa potrebbe girare di non volgare la narice sinistra ecco ecco torta c'è questo giovanotto che è imperversa con queste stronzate sulla povertà qui un giorno dovrò dire qualcosa ma oggi è troppo bello Mario vai Mario vai 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 no allora vai sull'incertezza virgolettato in conclusione questo gigantesco risparmio è il nostro petrolio se non lo sfruttiamo noi il sistema si erode e alla fine lo sfrutteranno altri comprandosi le nostre banche quindi se gli italiani ma non c'è neanche ma il livello ma li scrive sotto l'influenza se sì sotto l'influenza punto quindi c'è troppa liquidità sui conti se gli italiani non investono nel lungo termine in maniera semi immobilizzata le banche come dire avvezziscono poi arrivano i cattivi stranieri e si le comprano e rapiscono i risparmiatori italiani così come all'Italia comprata da Air France dirottava i turisti e li rapiva li portava nella valle della Loira così le banche straniere arrivano in Italia si comprano la liquidità degli italiani e la portano all'estero dando soldi ai cattivoni magari francesi magari tedeschi anche lì la Gabanelli notoriamente è come dire ha questa sorta di predilezione per questi temi molto patriottici e molto sovrani e allora qual è la soluzione sto arrivando resisti sto arrivando virgolettato perché allora non ipotizzare che Stato e imprese si possano collaborare per realizzare infrastrutture ad elevato moltiplicatore attento ci sono le infrastrutture ad elevato moltiplicatore e modernizzare il paese coinvolgendo anche la liquidità delle famiglie bastere attento che qui arriva il proiettile d'argento scansati basterebbe prevedere che parte del fabbisogno finanziario venga ottenuto ora come cazzo si possa ottenere un fabbisogno finanziario in italiano non lo so a limite coprire non ottenere eh possa essere ottenuto da obbligazioni garantite dallo Stato cioè un investimento talmente simile ai titoli di Stato da superare le paure delle famiglie perché un paese prospera solo quando il denaro circola non quando resta immobile e sterile su un conto ora proviamo a tradurre il denaro c'è ovviamente questa gente non riesce a capire un cazzo allora intanto il denaro circola pagando il panettiere ma neanche da bettola da sottoscala da bettola no ma ma ascolta gli italiani hanno paura hanno una fottuta paura dell'incertezza tengono i saldi liquidi con un'elevata propensione alla liquidità dei loro risparmi come fare per convincerli a investire sul lungo termine e a finanziare patrioticamente degli investimenti infrastrutturali ad alto moltiplicatore mettendo la garanzia dello Stato eh mettendo la garanzia dello Stato su obbligazioni emesse da questi contractor ma quindi secondo te il problema della elevata propensione alla liquidità degli italiani si risolve mettendo una garanzia statale? ma allora basta comprare dei BTP ok e questi proventi del BTP vengono usati per costruire ponti autostrade viadotti ferrovie ma perché fare un passaggio intermedio? Quando distribuivano la logica la Gabanelli dov'era? Fare il saggio di fine anno? quindi questo è quello che noi italiani leggiamo da questi principi e principesse del giornalismo che ti risolvono il problema quindi l'economia italiana è bloccata perché manca la garanzia statale su obbligazioni immobilizzate di lungo termine quindi nemmeno capire la differenza danno brutale che fa la scuola italiana è una roba ma non è la scuola sì la scuola italiana la scuola la televisione queste miglie folle folle di folle però si rafforza si autorafforza perché noi abbiamo proprio queste autentiche farneticazioni questi autentici deliri che vengono dispensati alla popolazione anche sinergicamente all'interno dello stesso gruppo editoriale e il lunedì sera ascoltiamo attentamente la parte finale del TG la 7 dove la signora dottoressa Gabanelli ci spiega come risanare questo fottutissimo paese dove predica la signora perché per una sinergia editoriale ciò che il lunedì mattina data room esce sul corriere la sera è al TG la 7 con Mentana che nella parte finale del TG la 7 viene illustrato il servizio che esce sul cartaceo e sul sito del Corriere il lunedì mattina dove nuove meravigliose idee quindi è proprio un gioco di squadra quindi è proprio è una sinergia editoriale diciamo ma nulla da obiettare oggi convinti che tutto si risolve se prendono i soldi che hanno sul conto corrente e li investono con garanzia dello Stato esattamente in una qualche ponte garantito dallo Stato che lo Stato italiano è una garanzia eccezionale restituisce sempre i soldi ma scusami scusami ma visto che stiamo parlando ma visto che vogliamo fare come il Giappone cioè che dobbiamo avere solo noi residenti il debito italiano ribadisco per quale motivo queste cazzo di famiglie italiane con i loro saldi liquidi sul conto non si comprano questi cazzo di BTP per costruire dei ponti e delle infrastrutture ad elevato moltiplicatore adesso attendiamo che la Gabanelli riesca a convincere le famiglie italiane perché questo è il problema è una tragedia senza fine è una tragedia senza fine facciamo a gara chi dice più stronzate e io di solito non leggo leggo solo le parti dove ci sono trattati temi economici sui quali ho la presunzione di riuscire a capire qualcosina tu pensa tutto il resto dei temi l'orgia della stronzata ormai è diventata il paese impazzito in una forma io l'ho scritto l'altro giorno è una forma di disperata autogestificazione in cui ormai la realtà viene continuamente inventata e si va alla ricerca delle inezie più fuori è una frustrazione c'è questo bisogno di sentirsi importanti e migliori di tutti senza fare lo sforzo una cosa che ho beccato oggi solo le 24 ore dedica un articolone sai a cosa? è il fatto che in una cazzo di sito di quarta categoria di linguaggi c'è una sampling una mezza statistica ma il fatto è che dice l'italiano è la quarta lingua più insegnata al mondo che l'avrà misurata non lo so perché tutto l'università dove sono stato qui si insegna un po' di italiano ma c'è infinitamente più domanda per spagnolo tanto per dirti quindi mi sembra assolutamente impossibile spagnolo è per forza dai dettagli se fosse vero o meno ma non importa ma non importa capisci non è quello il punto ammetti che sia vero per qualche miracolo vogliono tutti leggere Manzoni o che ne so a Calvino in tutto il mondo all'improvviso invece di studiare l'inglese lo spagnolo il cinese o l'arabo studiano l'italiano va benissimo ma che se ne frega la mia domanda è qual forma di malattia mentale devi avere per pensare che sia rilevante una classifica a caso che ti dice che sei la quarta lingua più studiata al mondo è chiaramente un sintomo di uno stato d'animo di una maniera di essere dell'italiano medio e del giornalista del direttore sulle 24 ore che decidi di pubblicare quella cosa lì in cui c'è questo bisogno continuo di pubblicare notizie che tirano su e suppongo che questo sia il patriotismo suppongo che ci sono delle persone che adesso mi ascoltano e dicono Boldrini è negativo Boldrini non è patriottico Boldrini non si ama è autorazzista cioè stronzate il punto è queste cose perdo la capacità retorica mi taccio quindi ti ridò la parola ma no no io guarda ho finito articolare verbalmente il tuo sdegno e io a un certo punto mi fermo mi si strozza la gola sì per ora ci riesco ancora vediamo quanto dura prima di passare direttamente agli insulti però perché comunque il come dire il grado di ammaloramento proprio del discorso pubblico di questo paese del degrado culturale civile di questo paese si coglie da tutte queste cose cioè basta prendere questi temi no queste statistiche che probabilmente fanno colore o probabilmente veramente il direttore medio del giornale italiano è convinto che servano reiterate iniezioni di fiducia di self confidence perché probabilmente se agli italiani non diamo la self confidence gli italiani si fermano si prendono la testa tra le mani e il pil affonda non è che ci sono altri motivi per cui questo accade c'è un paese che sta perché questo vale anche fra gli individui che la self confidence ti manca e ti mancherà sempre di più se passi la vita a cercare piccoli simbolini assurdi che ti confermino che sei il migliore del mondo invece di farlo no? cioè basta un minimo di introdotto sì sì ma alla fine poi dopo prego prego sì sì ma il problema il problema è che in una scala ideale si passa da questi che sono aspetti ancora minori ad altri che sono i programmi politici che sono esattamente lo stesso tipo di farneticazione in base al quale l'Italia crescerà del due e mezzo un e mezzo due ma anche tre mi voglio rovinare chi offre di più che faccio lascio glielo ripongo nella vaschetta sto aumento del pil dopodiché non succede quello che questi truffatori auspicano questi truffatori che solcano i lustri e non sto parlando di quelli current incumbent sto parlando di tutta la lista di truffatori di almeno gli ultimi vent'anni non accade e si cerca il colpevole esterno si cerca il complotto si cerca il vittimismo quando questo cazzo di paese nel secondo semestre ad arrivarci dovrà fare una manovra correttiva che alla fine porterà qualche altro tecnocrate a Palazzo Chigi tu vedrai la colpa sei convinto Mario non lo so guarda no 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 ma sento crescere anche ieri svariati amici che hanno scritto eccetera dicendo che ormai la vedono venire che dovranno portare l'ennesimo tecnocrate a prendersi gli insulti e aggiustare i conti tu sai meglio di me che tu sai meglio di me che l'occupazione è il lag indicator il fatto che in questo momento stia reggendo secondo me sta illudendo molti politici che alla fine le cose non vanno poi così male perché i numeri sono ancora buoni certo che se continua così ebbè qualcosa succede qualcosa succede perché se poi dobbiamo avere il ministro dell'economia che ti fa una lezione magistrale e si dice che il fiscal compact è stato costruito male e produce esiti drammaticamente prociclici e non abbiamo gli strumenti per gestire un velocissimo deterioramento congiunturale quando poi pochi giorni fa diceva non c'è un problema di recessione in Italia non vedo in Europa non vedo recessioni e allora qui occorre che ci mettiamo d'accordo cioè o c'è un velocissimo deterioramento congiunturale non abbiamo gli strumenti poi si sa quali saranno questi strumenti per far fronte ad un velocissimo deterioramento congiunturale ti hanno lanciato una bomba da qualche parte una bomba atomica hai perso un quarto della forza lavoro di notte per effetto di un virus che ti è successo quanti neuroni hai perso per effetto di questo virus in una notte e però è colpa del fiscal compact stamattina sul Corriero ieri mattina c'era un boxino nelle pagine di economia dove letteralmente ci si lagnava del surplus di bilancio tedesco che potrebbe essere in realtà speso e questo aiuterebbe anche l'Italia andiamo avanti a fare il governo federale tedesco ordinasse 500.000 casse di vino italiano 400.000 prosciutti poi cos'altro mandasse in vacanza nelle località turistiche italiane tutti i pensionati tedeschi per almeno 4 settimane all'anno i tedeschi ci regalerebbero molto gentilmente alcuni miliardi sono d'accordo avremmo esatto questa è la loro visione questa è la loro visione di non stato che fa deficit noi facciamo il reddito di cittadinanza per mantenere i fannulloni che fanno il lavoro nero e loro invece che sono più ricchi devono mandare la gente in vacanza nelle nostre le mie località e comprare i nostri prodotti caseari ah il pecorino ma non solo questo sì esatto tutto risolto i pecorino e visto che gli altri dovrebbero anche regalare 49 milioni a Salvini così restituisce il mal tolto ecco ma poi a parte quello ci lamentiamo dell'avanzo di bilancio ok del fiscal surplus poi però c'è l'avanzo delle partite correnti che è l'altra cosa che se lo diminuissero eccetera eccetera ma questa gente si dimentica che l'Italia è praticamente una propagine tedesca nelle catene di fornitura quindi di questo surplus tedesco sull'automotive ma non solo l'Italia è dentro in pieno per cui se la Germania dovesse riallocare le catene di fornitura negli Stati Uniti per riequilibrare il bilaterale come vuole quel deficiente di Trump l'Italia verrebbe segata la Germania rientrerebbe dal suo surplus commerciale l'Italia lo piglierebbe in quel posto però andiamo avanti a fare editoriali commenti e quant'altro dicendo che il problema è l'avanzo delle partite correnti tedesche di cui numerose regioni italiane sono dei lender diciamola sta cosa sono dei lender la Lombardia il Veneto l'Emilia Romagna alla fine sono dei lender tedeschi sull'export mettetevi la testa a pietà capitela questa cazzo di cosa una volta per tutte oggi 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 abbiamo un Mario ma guarda oggi se lo provoca ancora un po' intanto dico qualcosa il tempo è scaduto il tempo è scaduto il tempo è scaduto il tempo è scaduto cosa dovevi dire tu del tuo oh no non importa perché voglio sapere adesso ma c'è questo ragazzino lo vado a cercare perché adesso l'ho anche perso che non ho il piacere di conoscere c'è questo ragazzino molto arrogante devo dire che scrive pistolotti infiniti su Econopoli non so perché li facciano pubblicare perché non è vero questa idea che tutti hanno il diritto di parola sì ma non si possono scrivere cretinate a go go che appena che continua a insistere sulla fatto mischiando per essere uno molto di sinistra comunistoide che sta studiando a Roma 3 è un posto stupendo sarà studiando con Tridico sarà l'assistente di Tridico sì infatti secondo me è uno che cerca di fare l'assistente di Tridico si chiama Gabriele Guzzi ecco ora ti faccio vedere l'articolo e aveva scritto una pirlata assolutamente insensata sul reddito di cittadinanza che risolverebbe il problema della disuguaglianza come mostrato da Picchetti e tutte delle mischiando argomenti confusi dati e oggi risponde con un tono assolutamente insopportabile adesso andare attraverso le varie fregnacce che ci sono scritte in questo articolo fa paura ma una delle cose più belle di tutte è la solita spiegazione che in Italia non c'è in Italia c'è eccesso di liberismo e c'è poco statalismo perché le statistiche compilate ad hoc dei dipendenti pubblici mostrano che l'Italia ha meno dipendenti pubblici di moltissimi altri paesi in proporzione alla proporzione io trovo quando quella gente quando la gente usa quelle statistiche inventate per inventarsi che in Italia lo Stato è poco presente mi viene ancora voi a uno di quei momenti di fumi che io al contrario tuo non riesco a articolare con buona retorica mi incazzo e vorrei e vorrei fare qualcosa di fisico un paese dove praticamente l'80% del prodotto interno lordo è controllato dalla politica perché ci vuole direttamente a tasse imposte balzelli e spesa l'altro 30% fra cassa depositi e prestiti edi costi tutte queste cose che sono teoricamente private ma sono infatti pubbliche da qui nascono queste statistiche del pifero ovviamente esatto la forma giuridica la forma giuridica sono dipendenti pubblici più dipendenti pubblici di quelli non c'è nessuno ve li state pagando da 20 anni con le tasse direttamente sono così dipendenti da voi che infatti se smettete di dargli i sussidi i dipendenti chiudono e quindi io di fronte a queste cose qua niente non riesco a mantenere la lucidità ma c'è troppo liberismo in Italia allargo le braccia e dico non è possibile non è degno non è possibile che il giornale economico italiano non faccia le pulci delle pseudostatistiche del genere e dica senta ragazzino questa è una falsità sono come quelli che ti spiegano che in Italia il tasso di disoccupazione è bassissimo perché non colliamo la cassa integrazione e guadagno e non si accorgono che in Italia in realtà c'è il lavoro nero e c'è soprattutto il tasso di disoccupazione viene calcolato su una forza lavoro che ha delle percentuali molto più basse del resto del mondo quindi su queste statistiche inventate che costruiscono una realtà che non esiste e che purtroppo viene continuamente diffusa la responsabilità dei media devo dire questi di Econopoli sono anche delle persone gentili mi hanno insistito perché pubblicassi una cosa io gliel'ho data non riesco io non riesco davvero a capire perché in quel paese si è assaltato completamente ogni criterio obiettivo di analisi delle cose la capacità di dire santa madonna questa cosa è falsa non sta in piedi non gliela pubblico perché non si può magari perché chi deve dire non gliela pubblico non è in grado di discernere quando la cosa è falsa hai visto mai no ma guarda questi di Econopoli devo dire mi sono delle persone non li conoscevo per bene è una forma culturale del paese ovviamente le gabanelli come hai mostrato tu ci navigano le gabanelli su questa come dire rilassatezza dei costumi su questa incapacità del collega di prendere il giorno dopo che lei ha pubblicato la valanga di assurdità sul Corriere il giorno dopo sulla stampa Repubblica sia quello che vuoi uno che dice no questa è una sequenza di cretinato che andrebbe fatto è per quello che ho creato fastidio eh lo so ma hai fatto benissimo a suo tempo noi coreammo Nois Problema America per la stessa ragione non se ne poteva più me lo ricordo Alberto e Andrea chiamarono e dicono non se ne può più non ne posso più era il 2006 e da allora è solo peggiorata la cosa è infinitamente peggio sì sì infatti adesso la mia reazione allora mi sembrava avevo come una sensazione di poter fermare di fare diga filtrare riuscire a controbattere a bloccare i vari al tempo forti estremonti adesso oramai è una enorme tsunami che esce da tutte le parti sono saltati tutti i siti per cui gli italiani vivono in un mondo immaginato e si sono completamente esatto 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 ma quando quando si sveglieranno da questa bolla vediamo quale sarà l'esito quando si sveglieranno quando usciranno da questa bolla perché scusami eh ma tu hai visto le statistiche Istat che sono uscite a inizio settimana che dicono cos'è che il 70% degli italiani è soddisfatto della propria esistenza ma scusate cioè a guardare gli show televisivi e tutto questo pattume che c'è una sera sia la trappura lungo l'arco della giornata sembra che questo sia un paese in preda degli spasmi incoercibili e poi ti escono statistiche del genere su una rilevazione fatta però attenzione a inizio del 2018 dopodiché questi sono gli stessi che il 4 marzo si sono riversati in massa a votare per come hanno votato però guarda poco alla volta la realtà sta bussando alla porta del movimento 5 stelle sta bussando dopodiché gli sfonda la porta a calci quando è venuto giù il movimento 5 stelle una parte del quale verrà drenato dalla Lega toccherà alla Lega a prendersi ceffoni dalla realtà non potranno più nascondersi anche se manderanno avanti qualche punta di diamante dotata di lingua sciolta di eloquio fluente e di teorie inconsistenti non potranno resistere quindi è solo questione di tempo ma io so già che qualcuno dirà ah beh ma allora torna il PD ma no non è che torna il PD semplicemente noi abbiamo solo la pars destruens nel senso che tutti questi che hanno come dire dato la pillola allucinogena agli italiani alla fine vanno fuori strada gli italiani si risvegliano e aspettano il successivo con la pillola allucinogena chi sarà il successivo? nel frattempo come avrai forse visto o forse no abbiamo Zingaretti che si accinge come dire a diventare segretario del PD e oggi ha lanciato questa fantastica candidatura all'europeo di Pisapia perché quest'uomo è fondamentale è fondamentale se non c'è se non c'è Pisapia da portare avanti come una sorta di croce da mostrare ai vampiri non si riesce a creare un sano un sano cartello di sana sinistra e quindi cioè cosa vuoi che ti dica c'è sempre un papa straniero da cercare ma voglio dire questa è la stessa gente alcuni molto pochi per carità ma alcuni sono ancora convinti che il papa straniero di una sinistra fattibile da cui ricominciare sia tal Roberto Fico per cui adesso questo numero è calato drammaticamente negli ultimi tempi ma qualche mese fa c'era veramente un sacco di sui giornali ma imbrattavano ma imbrattavano imbrattavano la carta dei giornali dicendo però Fico potrebbe essere come dire una forza aggregante della sinistra le sue tesi le sue istanze ma tu guarda come cazzo siamo ridotti istanze questi non sanno leggere e scrivere e vabbè caro Mario basta i nostri ascoltatori ragazzi guardate che siamo ottimisti abbastanza lui infatti è convinto che l'Italia andrà a sbattere il mudo e si sveglieranno io io pure da ciao Mario grazie ciao 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 ciao